Buongiorno a tutti, nel Vangelo di oggi vorrei sottolineare due aspetti. Il primo, i due discepoli di Emmaus ritornano a Gerusalemme dagli Apostoli e raccontano, narrano il loro incontro con Gesù. La fede è anche raccontare l'incontro con Gesù. La fede è comunicare questo incontro. Noi troppo spesso viviamo la fede in un modo quasi con riservo. Certe cose possono essere solo nostre. No, dobbiamo comunicarlo. Se le doniamo, se le comunichiamo, queste stesse cose diventano più grandi per noi, crescono in noi e sono un aiuto agli altri. Il secondo aspetto è il fatto curioso, se vogliamo, che Gesù dice per farsi riconoscere guardate le mie mani e i miei piedi. Sì, sono le mani e le piedi di un crocifisso, hanno questi segni, ma credo che anche noi cristiani dovremmo dire guardate le mie mani e i miei piedi. Le nostre mani sono testimonianza di Gesù risorto se sono mani che aiutano, che sostengono, che accompagnano, che accarezzano, che benedicono. I nostri piedi devono essere piedi che si muovono, che vanno incontro agli altri, che portano aiuto, in certi casi addirittura portano anche gli altri i pesi degli altri. Bello questo avere mani e piedi come quelli di Gesù, che diventano testimonianza di Lui. Buona giornata a tutti voi.